come non averci pensato prima mangiare il gelato per veicolare sostanze protettive del resto oggi quando entriamo in un supermercato sembra quasi di essere in farmacia è evidente il crescente interesse per gli alimenti che migliorano la salute e la nutrizione umana questo ha portato alla necessità per il mondo accademico e l'industria alimentare di investire nello sviluppo di gelati innovativi e funzionali il gelato è il prodotto lattiero caseario più popolare e mostra quindi un buon potenziale per aiutare le persone a migliorare la propria dieta il gelato funzionale offre numerosi benefici salutistici grazie alla sua migliore composizione nutrizionale ad esempio ingredienti come la farina di foglie di olivo le fecce di vino rappresentano una ricca fonte di antiossidanti è possibile sostituire il grasso del gelato grazie all'impiego di proteine in polvere che possono essere recuperate da diverse fonti è quello che abbiamo dimostrato in un lavoro scientifico sul gelato allo zafferano oltre da portare ovviamente un contenuto in amminoacidi e essenziali riducono le calorie del gelato ma soprattutto riescono a garantire quelle proprietà sensoriali che il grasso ha nel gelato ma gli studi sul gelato vanno anche oltre si sta cercando di modificare il contenuto di alcuni nutrienti il cui eccesso è collegato a un maggiore rischio di obesità e di altre malattie correlate tuttavia la riduzione o l'eliminazione degli ingredienti comuni del gelato o l'aggiunta di ingredienti insoliti alla formulazione standard non devono alterare le caratteristiche sensoriali e la stabilità alla conservazione del gelato perché si sa solo se il gelato continua a essere buono continuerà ad essere consumato un'altra opzione è quella di utilizzare grassi con una maggior quantità di acidi grassi insaturi piuttosto che saturi abbiamo dimostrato che sostituire la panna con olio extravergine di oliva aumenta la quantità di polifenoli assimilabili dopo digestione e che nel gelato al cioccolato gli aromi dell'olio sono mascherati dagli aromi del cacao il gelato è un dolce amato che ha alle spalle una ricca storia ma anche una scienza complessa in continua evoluzione chissà se a breve troveremo anche il modo di poterlo gustare ogni giorno se mi compri un gelato ti bacerò ciao ciao ciao